Topical store, imported from paradise. Telefonando al numero 166-66666. Grande fratello, domani il risponso alle 21 su Canale 5. Acidophilus bifidum caceri, tre fermenti vivi tutti insieme, mi. Quello stai facendo? Sto bevendo il nuovo Yomo ABC. Fa benissimo, lo beve sempre anche la mia mamma. Yomo ABC, più benessere con tre fermenti in più. Fa benissimo, provalo. L'Isoform BC Gel, pulisce a fondo e in più disinfetta, lasciando un fresco profumo. L'Isoform, pulito sicuro perché disinfetta, anche nel mondo che tu non puoi vedere. E da oggi, prova il nuovo L'Isoform BC Active Gel. Previene il calcare, igienizza e rilascia un fresco profumo ad ogni risciacco. Nuovo dall'Isoform. Tantum Verde presenta la famiglia Boccasana. Oh no, hai mal di gola. Mamma, lo usi da sempre. Almeno leggi le istruzioni. Tantum Verde colluttorio, puro per il mal di gola. Diluito con acqua per l'igiene orale. È un medicinale leggere attentamente l'avvertenza e il foglietto illustrativo. Nuova Seat Leone. Quella, cosa stai mangiando? Il mio kinder cioccolato. E tu cosa fai con la moto? La rimetto a nuova. Quando crescerai, capirai che certe cose non si cambiano. E quando crescerai, potrebbe servire anche a te. Papà, e quando cresco se ti mangi tutti i miei kinder cioccolato? Il cioccolato che aiuta a crescere. E oggi con Snoopy & Friends puoi vincere 100 fabolosi computer portatili VM. Mille caldissime trapunte e con 15 punti Snoopy. Solo con Snoopy & Friends. Hai sempre un motivo per collegarti alla rete. Lasciati ispirare dall'irresistibile Siemens C35. Siemens C35. Be inspired. Come stai bene? Come stai bene? Ma se mi sento gonfia come un pallone? È una sera magnifica. Non per me, mi sento di un gonfio. E se fosse un problema? Di ritenzione di liquidi. Oggi, per aiutarti a prevenirla, c'è Danone Vitasnella. L'acqua con solo lo 0,0002% di sodio, che giorno dopo giorno, ti fa sentire sempre più snella, più leggera. Sempre più in forma. Acqua Danone Vitasnella. Più che snella, Vitasnella. Quando in gioco c'è la merenda. Via! È un eterno ping pong tra nutrimento e gusto. Golosa. Nutriente. Al cacao. Con tanto latte. E... Un punto! E oppa! Ma così non vale! Sì, Kinder Delice ha tanto latte quanto cacao. È la ricetta Kinder. Per questo, gusto e nutrimento giocano alla pari. Allora, chi è che ha vinto? Kinder Delice! Kinder Delice. L'equilibrio giusto tra nutrimento e gusto. Ma è l'Aurostar! Sinceramente, è bello. Ci vorrebbe soltanto qualcuno in più. Si sente proprio in casa. Non è l'Aurostar. Non è che bello. L'emozione continua con la Gazzetta dello Sport. E' una morbida crema testata per darti una protezione più completa e sicura. Nuovo deodorante Infasil, un grande istinto di protezione. Rilevo qualcosa! Ma che succede? Los Angeles. Siamo a livello 1, massima emergenza. Salvare la città da un fiume incandescente. Ti prego, non puoi lasciarmi con me. Tesoro, tu non puoi stare qui e io devo rimanere. Perché? Quella per lui la prova più grande. Questa roba distruggerà tutto quello che incontra. Perché fermare quel fiume è salvare anche lei. Tommy Lee Jones, Amage, Vulcano, Los Angeles 1997. Lunedì alle 21, una prima TV Canale 5. Io non sono lo zimbello di nessuno. Voglio rispetto, lo voglio e subito. Come ti è venuto in mente di incollarti il cappello in testa? È inutile che continui...